In questa fase di avvicinamento all'appuntamento di Pesaro 2024 è diventata di vitale importanza una collaborazione tra la stessa città e 50 comuni provinciali. Ed è esclusivamente rivolto a quest'ultimi il bando da 200.000 euro messo a disposizione da Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, al fine di sostenere progetti culturali e artistici nelle aree più marginali dallo stesso capoluogo. Uno stimolo in più per amministrazioni, soggetti pubblici e privati, per uno sviluppo strategico socio-economico in vista di Pesaro, capitale italiana della cultura. I 200.000 euro sono riservati esclusivamente alle collettività della provincia, quindi con esclusione del capoluogo di Pesaro, con il quale magari la Fondazione si riserva di valutare altri tipi di interventi e di iniziative. Questo perché appunto vediamo il punto più debole potrebbe essere rappresentato da queste comunità a volte molto frazionate e quindi il bando, oltre a mettere a disposizione risorse economiche, mette insieme delle regole che agevano la compartecipazione, la coprogettazione. Il bando, che è reperibile dal sito della Fondazione, è aperto dal 31 marzo al 31 maggio e l'attività di selezione avverrà entro il 30 giugno 2023. I progetti che vorranno essere presentati dovranno rispondere ad almeno uno dei sei ambiti tematici inseriti nel dossier di Pesaro 2024, come la centralità dell'ambiente e delle officine culturali e creative, o le nuove modalità di espressione della democrazia e il turismo sostenibile, ma anche l'innovazione sociale a base culturale e la rigenerazione urbana. Questo bando si può aderire facendo una domanda espressa alla Fondazione, con un progetto che ricade in uno degli ambiti, diciamo così, tematici propri del progetto Pesaro 2024, rispettando quelle regole che abbiamo definito, massimo 20.000 euro per progetto, che rappresenti non più del 60% del costo complessivo per agevolare l'aggregazione anche economica. Naturalmente verranno valutate, come dicevo, con preferenza quelle iniziative che ricadono su ambiti territoriali più ampi possibili e da parte di tutti quelli soggetti che praticamente hanno già dimostrato nel corso dell'esperienza reciproca con la Fondazione di essere in grado di assolvere, di organizzare e di far realizzare quei progetti che mettono in campo. Invitare i comuni e le realtà culturali della provincia a presentare proposte anche in forma aggregata, strategica, sinergica, quindi insomma più che a farsi concorrenza, a cooperare, magari facendo progetti di vallata o di area montana o di territorio uniforme e che quindi possano essere ancora più forti, più riproducibili, più leggibili e anche più di interesse per i cittadini innanzitutto, ma anche per quelli che chiamiamo cittadini temporanei che saranno i visitatori che verranno a Pesaro nella provincia per la Capitale 24.